Imprese, innovazione e infrastrutture. Sfida. In molti paesi mancano infrastrutture resilienti. Soluzione. Investire in infrastrutture che favoriscano la crescita e lo sviluppo sostenibile. Sfida. La carenza di infrastrutture è il maggiore ostacolo per un business più fiorente. Soluzione. Innovare per realizzare delle infrastrutture verdi, incrementando il rendimento energetico e riducendo l'impatto ambientale al verso. Sfida. Le infrastrutture e l'industrializzazione spesso causano degrado ambientale. Soluzione. Costruire infrastrutture resilienti che proteggano le condizioni di vita dai disastri ambientali e naturali. Sfida. 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 Grazie a tutti